Quali sono le prime sensazioni di fronte a questi incarichi? Sicuramente di una grande emozione perché ho cominciato in Piacenza a baseball come giocatore tantissime anni fa che ero bambino e rientrare quindi da presidente, oltre che appassionato, per me è un grande onore sicuramente. Arriva con un'eredità importante perché c'è stata una stagione veramente spettacolare, quella dello scorso anno, ora quali sono gli obiettivi? Sicuramente se è possibile di confermare da un punto di vista dei risultati che sono stati tenuti con la prima squadra veramente gli ottimi risultati ottenuti sotto la presidenza dell'amico Pino Gaidolfi e indubbiamente anche di confermare quello che di buono è stato fatto con il settore giovanile, con tutti i settori giovanili di Piacenza a baseball. Bilanciamoci con un obiettivo sulla carta. Avete sfiorato lo scorso anno la vittoria del campionato? Allora, sicuramente il campionato che comincerà tra pochi mesi sarà comunque un campionato estremamente impegnativo. I risultati dei Piacenza a baseball dello scorso anno sono andati anche al di là di ogni più erose aspettativa. Io posso solo augurarmi, sia come tifoso e da pochi giorni come presidente, di avere se non altro sul campo le soddisfazioni che abbiamo avuto lo scorso anno. Poi, se anche la classifica ci premerà o addirittura ci consentirà di fare ancora meglio, lo spero tanto, però in questo momento ovviamente è solo una speranza e non può essere una garanzia.